Ricordiamo i cavallieri che il controllo di forza viene al random anche nella giornata di oggi. Ricordiamo i cavallieri che il controllo di forza. Ricordiamo i cavallieri che il controllo. Ricordiamo i cavallieri che il controllo di forza. 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 Quanta scelta? Ok, recupera, recupera. La rica è a trezza, a trezza, a trezza, a trezza, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Grazie, Barbara. Brava! Botteggio per Barbara Pellemo, 66.